E' stato un ciclista questa mattina intorno alle 10 a fare il drammatico ritrovamento, riverso nel fossato che costeggia la pista ciclabile di Viale della Repubblica a Treviso, il corpo senza vita di un 88enne residente a Santa Bona, poco distante la sua bicicletta da corsa. L'uomo ha subito dato l'allarme, sul posto sono arrivati i sanitari del suo, ma che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'anziano. Le indagini sono ora affidate agli agenti della polizia locale, che hanno effettuato i rilievi di legge per ricostruire cosa sia accaduto in quel tratto di strada che da Villorba conduce a Treviso. Per ora tutte le piste restano aperte, non si esclude che l'anziano che al momento dell'incidente indossava l'abbigliamento sportivo da ciclista possa essere stato colto da malore, ma non si scarta nemmeno l'ipotesi di un possibile coinvolgimento di un altro mezzo. Per questo la polizia locale acquisirà e visionerà le telecamere delle attività commerciali presenti in zona per escludere altre responsabilità. La bicicletta della vittima è stata posta sotto sequestro in attesa delle decisioni del pubblico ministero per eventuali ulteriori accertamenti. Al momento non sono state rese note le generalità dell'anziano in attesa del riconoscimento domani da parte dei familiari. L'88enne lascia la moglie e una figlia.